Grazie a tutti. Grazie a tutti per l'organizzazione di questo congresso. Adesso introduco il tema del nostro panel e di volta in volta introdurrò anche le nostre speaker di oggi e anche la discussant. Il tema del panel, che è intitolato Nuove prospettive sull'attivismo femminile negli Stati Uniti tra anni 70 e 80 e del 900, dalla working class ad Hollywood, come potrete immaginare, si pone all'obiettivo di indagare i due decenni 70 e 80 e del 900 americano, a partire da nuovi punti di vista sull'attivismo femminile. Il nostro punto di partenza è il recente interesse mostrato dalla storiografia europea e statunitense nell'approfondire le complesse dinamiche che negli anni 70, a seguito della frattura del movimento femminista e la nascita di diversi femminismi, coinvolsero l'attivismo locale e trasnazionale delle donne nel continente. Il presente panel intende indagare e far dialogare alcune realtà scarsamente analizzate sul tema della storia delle donne di genere negli Stati Uniti e per farlo gli interventi di oggi si basano su ricerche d'archivio che fanno riferimento a tre temi principali. Il primo è la riproduzione, il secondo è l'autorship e il terzo è l'intersezionalità. Direi di iniziare con gli interventi. Intanto presento la nostra prima speaker, che è la professoressa Benedetta Calandra, che insegna storia e istituzione dell'America all'Università di Bergamo, che si è a lungo occupata di politiche della memoria nel cono sud latinoamericano, di esilio, di guerra fredda culturale, di politiche sulla riproduzione in America Latina e di recente ha anche pubblicato il bel libro Il Corpo delle Caribe, Le politiche sulla riproduzione tra Puerto Rico e Stati Uniti, 1898-1993, per ombre corte. L'intervento di oggi, dal titolo Attivismo di comunità portoricana a New York, la voce di Elena Rodriguez, Trias, MD e il caso delle sterilizzazioni forzate, analizza la storia di Elena Rodriguez, attivista portoricano-statunitense impegnata sul fronte delle sterilization abuse, e il cui percorso biografico e politico condensa molteplici spunti di riflessioni in merito alle intersezioni tra il movimento femminista e i movimenti femministi, quelli nazionalisti e terzomondisti dell'epoca. Direi di cominciare quando vuole. Prego. Eccomi sentite? Molte grazie. Molte grazie alla SIS per essere qui, molte grazie a Walter per l'organizzazione, impeccabile, devo dire, di questo panel. È stato veramente bravissimo in una fase in cui poi siamo tutti confusi tra mille mail, mille link, mille collegamenti, direi sovraccarichi di informazioni, veramente andava sempre al momento giusto, le cose aiutando molto. Ah, ecco, sta arrivando. È riuscita. Buongiorno. Aiutando molto, come vi dicevo, un po' l'architettura, diciamo, del panel. Ha introdotto già nella sostanza, diciamo, quello di cui parlerò. Io vi partirò, come dire, da un percorso biografico individuale di questo medico portoricano e attivista di comunità che si chiama Ellen Rodriguez Trias, una donna portoricana che però ha lavorato a cavallo tra la sua isola d'origine, Puerto Rico, e i quartieri più poveri di New York City negli anni 70 e 80. Farò, come dire, cinque passaggi successivi. Ve li anticipo e poi entro nel merito di ognuno di questi. Innanzitutto, chiaramente, qualche dato biografico, perché non è un personaggio particolarmente noto ai più e condivido magari con voi anche un pdf sul suo archivio, quello dove io avevo messo il naso, diciamo, qualche anno fa, che si trova proprio a Hunter College, Center for Puerto Rican Diaspora. New York, come alcuni, diciamo, sanno, è stata una delle principali destinazioni della cosiddetta diaspora portoricana, ma ha una massiccia, diciamo, presenza di portoricani, specialmente nei quartieri più poveri, i musical, il cinema, abbiamo tante rappresentazioni, diciamo, anche finzionali di questo, no? E Ellen Rodriguez, appunto, dedica effettivamente la vita a un attivismo sulla salute sessuale riproduttiva nel South Bronx in particolare, concentrandosi soprattutto su quella che sono le sterilizzazioni. Una pratica per sterilizzazioni in questo, diciamo, preciso contesto intendo proprio un'operazione di legatura delle tube che consiste evidentemente in un'operazione, diciamo, irreversibile dal punto di vista della capacità riproduttiva. Questa procedura, nella sua isola di origine, appunto, Puerto Rico, raggiunge dei quantitativi veramente impressionanti. Quindi, dopo aver presentato qualche dato sul percorso di Ellen, ve lo vado un attimo a contestualizzare, diciamo, questa pratica delle sterilizzazioni a New York, ma anche nell'isola di Puerto Rico, da cui effettivamente deriva. E vi inserisco un attimo questo percorso biografico individuale, appunto, di Ellen nella ricerca più ampia a cui Walter faceva, appunto, riferimento. Il corpo del Caribe, che è l'ultima monografia che io ho pubblicato, nel senso che Ellen rappresenta il tassello, diciamo, di una storia di relazioni tra Puerto Rico e Stati Uniti, relazioni molto ambigue, no? Dato la stessa isola di Puerto Rico, che è stata una semicolonia fondamentalmente, e poi dal 52 un cosiddetto ELA, è stato libre, indipendiente. Quindi uno status, come dire, anche altamente ambiguo. E la relazione con gli Stati Uniti è sempre stata estremamente forte, dal punto di vista anche della legislazione. Dopodiché, come quarto passaggio, torno un attimo sull'attivismo di Ellen Rodriguez nel suo contesto, appunto, di lavoro, quello degli anni 70 e 80 della New York, in cui la militanza femminista, nazionalista e anticolonialista, appunto, come accennava prima Walter, si intersecano molto fortemente nel suo operato. E quindi l'ipotesi anche che io suggerirò è che, appunto, la maniera in cui Ellen legge questa sterilization abuse, la pratica, appunto, di queste sterilizzazioni, viene fortemente influenzata da questa sua militanza politica. Come quinto e ultimo passaggio, allargo un attimino, come dire, lo Zoom, non solo all'operato di Ellen come individuo, evidentemente, non solo nella sua comunità, delle cosiddette neoricans, appunto, le portoricane del South Bronx di Brooklyn, ma anche all'interno di quella bomba di effervescenza, di attivismo politico, di varie donne, di varie etnie, quindi latinas, african-americans, chicanas, no? Che della salute riproduttiva in quegli anni facevano un vero e proprio campo di battaglia. E quindi cercherò, come dire, come nodo, diciamo, conclusivo, quindi non tanto descrittivo quanto la prima parte, ma un po' più problematico, vedere un attimo come si inserisce la denuncia di Ellen sulle sterilizzazioni rispetto ad altri gruppi etnici in questo contesto di grandissima effervescenza. Questo è un po', diciamo, il percorso che vado a seguire. Ok, su Ellen Rodriguez vi volevo giusto condividere questo, riuscite a vedere? Ah no, devo fare i condividi, scusate. Ok, questo file, riuscite a vederlo? Guide to Ellen Rodriguez's Trias Paper. Ok, questo è il file che io stessa, prima ancora di andare a New York, a questo Hunter College Center for Puerto Rican Studies, mi inviarono le gentilissime archiviste, diciamo, di questo centro, che ha appunto tutto un fondo dedicato a questa figura. Ellen Rodriguez nasce nel 29 e muore nel 2001, quindi una vita piuttosto lunga, 70 anni. Le due date, se vogliamo, cardine più importanti, per indicare chi era e che cosa ha fatto, sono il 1974, data in cui Ellen fonda il cosiddetto SESA, acronimo di Committee to End Sterilization Abuse, e poi il 1993, in cui lei, prima donna ispanica nella storia di tutti gli Stati Uniti, diventa la presidentessa dell'American, Pan American Health Organization, quindi raggiunge, come dire, una carica sicuramente importante, di grande visibilità. Il tipo di fonti che io ho analizzato, vediamo qua se si riescono giusto a vedere le tipologie, sono molto molto variegate. Non so se è troppo piccola la scritta, comunque ci sono informazioni bibliografiche, ci sono scritti personali, ci sono testimonianze di fronte al congresso, perché Ellen Rodriguez molto spesso si trova, dopo il 74 in particolare, proprio agli cosiddetti hearings del congresso. Ci sono corrispondenza privata. Ellen è una delle coautrici, a un certo punto, ai primi anni Ottanta, del famoso Our Bodies, Ourselves, noi e il nostro corpo. Quindi c'è anche tutto un carteggio con le editors, di questa ennesima edizione di questo fortunatissimo manuale. Ci sono fotografie, c'è materiale audiovisivo, insomma c'è un bel patrimonio, diciamo, di materiale per capire un po' come lei si era orientata, come lei si era posizionata. Andando alla specificità, lei ha anche lavorato come medico-pediatra, ha lavorato per il diritto all'aborto, cioè si è spesa su tanti fronti, però in questo paper in particolare quello che io tratto è proprio l'operato del SESA, Committee to End Sterilization Abuse, e torno un attimo al punto appunto delle sterilizzazioni. L'isola di Puerto Rico, da cui Ellen appunto deriva, lei nasce lì, dopodiché con la madre vive a New York, dopodiché torna a Puerto Rico per laurearsi e specializzarsi in medicina, e poi ritorna a New York, quindi è un contesto di appartenenza a cui lei rimane fortemente legata, è un'isola che ha presente effettivamente una peculiarità rispetto a questa pratica delle sterilizzazioni. Queste sterilizzazioni vengono legalizzate fin dalla fine degli anni 30 all'insegna di un disegno complessivo di carattere eugenico, quindi di controllo fondamentalmente qualitativo della popolazione, ma quanto più ci avviciniamo poi agli anni 50 e 60, questa pratica viene incredibilmente estesa e arriva ad essere utilizzata anche per un controllo quantitativo della popolazione, quindi intesa proprio come una forma di population control, da attori sia pubblici che privati statunitensi, che come vi accennavo prima hanno pressoché un totale controllo, come dire, della vita istituzionale dell'isola. Giusto per darvi appunto qualche dato di carattere diciamo quantitativo che a me aveva colpito tanto e uno dei motivi per cui avevo proprio scelto questo contesto, noi arriviamo alla fine degli anni 60 in cui a Puerto Rico il 35% delle donne in età riproduttiva, grosso modo diciamo dai loro 14 ai loro 45, viene sterilizzata e questo 35% include una enorme maggioranza di donne nei loro 20 anni, quindi che non superano i 29 anni, dopo la prima o la seconda gravidanza, questo è un dato diciamo un po' secco, quindi in termini proprio di incidenza diciamo percentuale, Puerto Rico è uno dei posti dove al mondo, un'isola piccolina, più viene praticata questa sterilizzazione. Nel linguaggio comune e corrente viene chiamata l'operazione, non c'è nessun altro aggettivo come dire che specifica e qualifica, quindi anche dal punto di vista terminologico evidentemente chiamarla solo l'operazione ci dà un indizio come dire di quanto sia diventata una pratica diffusa e trasmessa anche di generazione in generazione. C'è evidentemente tutto un versante privato, familiare, generazionale e c'è un versante anche sovradeterminato dalle politiche appunto statunitensi. Brevissimamente la figura appunto di Ellen si colloca in questo studio un po' più di lungo periodo che avevo fatto e che era confluito in questa monografia di cui vi accennava Walter e che anche lì vi voglio un attimo condividere. Riuscite a vederlo? Ok, perfetto. Il corpo del Caribe, le politiche sulla riproduzione tra Puerto Rico e Stati Uniti, di 1898-1993. Vi condivido giusto un attimo l'indice, diciamo, del volume. Ok, forse è un po' troppo grande. La struttura narrativa che io ho scelto è narrare questa storia attraverso tre percorsi biografici di donne. Ellen è la terza e arriva in ordine temporale. Vabbè, il primo capitolo è la cosetta mappazza storiografica in cui io inserisco un po' il tema delle relazioni Stati Uniti-Puerto Rico, del controllo della popolazione, del controllo della pianificazione familiare. Questa ovviamente ve la risparmio. Il secondo capitolo si chiama Margaret e si riferisce a Margaret Sanger, la fondatrice della cosiddetta Planned Parenthood Association, la paladina del controllo familiare negli Stati Uniti, che a Puerto Rico ha avuto molta influenza su una serie di medici locali, diciamo progressisti. Il terzo capitolo si chiama Catherine e si riferisce a Catherine Dexter McCormick, che è stata una biologa, è una delle prime donne laureate al MIT, Massachusetts Institute of Technology, ricchissima, che ha messo gran parte del suo patrimonio a servizio del movimento femminista statunitense e in particolare ha finanziato, altra cosa che rende Puerto Rico molto particolare, i primi esperimenti sulle pillole contraccettive. Una ventina di volte il dosaggio attuale degli ormoni delle attuali pillole sono state ingerite in forma sperimentale nei primi anni 50 in vari posti, diciamo, del sud del mondo, ma in particolare Puerto Rico era molto vicino agli Stati Uniti, dal punto di vista legislativo facile evadere una serie di cose e le portoricane fondamentalmente costituiscono questa massa critica di dati per cui poi nel 60 la Food and Drug Administration, la FDA, autorizza la commercializzazione delle prime pillole. Ma questa è tutta un'altra storia. Ellen quindi arriva terza, diciamo, in ordine cronologico e le due date che ho appunto messo tra parentesi sono il 74 e il 93 per i motivi che vi ho spiegato prima. Ora, nel caso del carteggio che io ho potuto analizzare, i discorsi pubblici, quelli privati, insomma, mi è sembrato decisamente di ricostruire una lettura del fenomeno delle sterilizzazioni quasi unicamente in termini di abuso, appunto. Questo Committee to End Sterilization Abuse parla molto chiaro, no? E altrettanto chiaro parlano le testimonianze di Ellen al congresso. La sterilizzazione, secondo Ellen Rodriguez, è una forma di abuso fondamentalmente che le portoricane povere, dei quartieri poveri e disagiati nuoyorchesi si portano dietro dalla loro isola d'origine. Per questo ho voluto fare, come dire, tracciare un attimo questo filo rosso rispetto a Puerto Rico che non è il contesto di oggi, ma altrimenti non riusciamo a capire. E Ellen traccia in tutti i documenti un filo rosso appunto di enorme continuità, indiscussa continuità sulla familiarità e l'enorme diffusione della sterilizzazione a Puerto Rico rispetto a quella che poi avranno le portoricane, appunto, le neoricans, neoricans, nei quartieri poveri di New York City. La sterilizzazione è una forma di abuso, è una pratica coercitiva. Nell'analisi che Ellen Rodriguez ci presenta non c'è particolare spazio all'idea che le donne possono avere in qualche modo optato per questa pratica, scelto questa pratica. Si tratta fondamentalmente di un'operazione che viene inquadrata da Ellen Rodriguez in un contesto sovradeterminato, di tipo coloniale, che si trasferisce attraversando il Mar dei Caraibi, appunto, dall'isola di Puerto Rico al contesto povero di New York City. E su questo punto insiste tantissimo. Come vi accennavo prima, Ellen Rodriguez non è stato solamente un medico pediatra e anche una politica della salute ai più alti livelli, è stata anche un'attivista di comunità molto inserita nella comunità nazionalista dei nazionalisti portoricani. È una comunità estremamente agguerrita, molti sono finiti in carcere, anche uno dei suoi ex mariti, insomma una militanza impegnata e anche duramente repressa. Ellen è una nazionalista convinta. E quindi emerge anche lì in tutta la sua lettura della operazione questa sua militanza politica nazionalista, anticolonialista, terzo mondista. È proprio veramente una figlia del suo tempo, no? Come dire, gli anni settanta e ottanta in questo senso, come lei si esprime, sono proprio fortemente segnati da questo. Quindi non c'è spazio, in realtà, per una lettura che possa essere un po' più articolata, un po' più sfumata. In realtà la chiave del genere, come alcune storiche, all'epoca già Linda Gordon, una delle fondatrici proprio degli Women's Studies, no? Negli Stati Uniti, che io ho anche poi intervistato quando ero lì, Linda Gordon già registrava, come dire, nei suoi libri, in epoca coeva, quindi siamo proprio alla fine anni settanta, primi anni ottanta, come una lettura di questo tipo, peraltro diffusa in certi circoli appunto di attiviste, anche per la salute sessuale e riproduttiva, non lasciava granché spazio a una lettura di genere. Non si prendeva la briga, se vogliamo, di entrare nel merito magari di singoli percorsi biografici, non andava a vedere se c'era un margine, come dire, di volontarietà in questo. C'era questa lettura appunto in una chiave assolutamente univoca, diciamo, unidirezionale dell'abuso. Serialization e abuse erano fondamentalmente sinonimi e le ragioni erano appunto strettamente politiche in questa cornice fondamentalmente antiimperiale. Questo era un po' il succo, diciamo, nella lettura che ci dava Ellen. Non era ovviamente una posizione isolata, no? Era una posizione condivisa da tanti attiviste dell'epoca. L'ultimo file, infatti, che volevo condividere con voi... Riuscite a vederlo? È una citazione? Sì. Perfetto. Questa è Bonnie Massa, è una studiosa canadese che fa parte di questo Women's Press di Toronto che si esprimeva, diciamo, anche lì in termini molto netti sulla pratica delle sterilizzazioni, utilizzando in conclusione questa formula delle oppressioni, delle cosiddette Third World Sisters, le nostre sorelle del Terzo Mondo. E vedete qui cosa dice, no? Andiamo avanti, andiamo alle conclusioni. Quindi, diciamo, è molto netto anche nella lettura di Bonnie Massa questa chiave, appunto, dell'oppressione delle Third World Sisters, le nostre sorelle del Terzo Mondo. Le sterilizzazioni, all'epoca, come riportava anche un'inchiesta governativa, erano effettivamente applicate su scala molto importante anche su donne povere nere, su donne povere bianche di basso reddito, nelle riserve dei nativi indigeni, diciamo, indiani, no? Quindi era un dato, come dire, inequivocabile. E in molti casi, effettivamente, gli stessi operatori sanitari in loco non davano delle informazioni veramente accurate. Per esempio, si giocava molto sulla reversibilità dell'operazione, cosa che non è. Le donne magari pensavano fosse una misura, come dire, temporanea e reversibile, cosa che non è. In ogni caso, questo dispositivo retorico, diciamo, della sisterhood, che adesso si va anche decostruendo, rimane uno dei grandi interrogativi che io mi pongo, in realtà, senza dare una risposta al limite, lo approfondirei. Vedo che studiose come Raffaella Baritono, per esempio, ci ha lavorato tanto negli ultimi anni, un po' nel proprio decostruire, no? Danno questo panorama sulla carta, forse, di alleanza trasversale, nei fatti non sempre e non necessariamente è stato così. Andando un pochino poi ad approfondire, cosa che io mi riserverei anche magari di fare per il futuro, vediamo che ci sono una serie di posizioni piuttosto variegate e differenziate in merito, no? Ci sono altri studi che la Elisabetta Veziosi, per esempio, quando mi sono confrontata con lei, mi hanno suggerito, no? E indicavano che anche all'interno delle African American Women ci sono state delle posizioni differenziate. Alcune donne del movimento afroamericano, per esempio, erano in contrasto contro alcuni uomini del movimento afroamericano che vedevano anche lì le sterilizzazioni come una forma unifica di population control. Alcune di loro le volevano, per certi versi, adottare come occasione di controllo riproduttivo, no? Sfilandosi quindi da questo paradigma così rigido, semplicemente oppressione o resistenza. Andavano, come dire, a infiltrarsi in queste pieghe. E quindi questa third world sisterhood, questa lettura così netta che in realtà poco spazio lasciava a un'analisi appunto di genere, come la stessa Linda Gordon invece suggeriva, no? Di portare avanti, è andata sviluppandosi negli ultimi anni. Concludo? Bruno, quanti minuti? Ok. È proprio tre minuti? Perfetto, allora ci siamo. Esattamente questo succede. Negli ultimi anni finalmente iniziamo a avere delle ricerche etnografiche che vanno in profondità anche a intervistarle, queste donne, a sentire finalmente che cosa ci raccontano. Io concludo, diciamo, il libro proprio su queste sfumature un po' del grigio, sul lavoro di questa etnografa Iris Lopez, che ne va a intervistare per tre generazioni, centinaia di donne, e riscatta una parte anche di agency in tutto ciò, senza evidentemente andare a deducorare, come dire, quello che è stato la parte a volte sottilmente coercitiva, in realtà ci parla di margini di scelta, margini di decisione, e soprattutto di queste donne che colgono, come dire, questa occasione di controllo riproduttivo proprio in questo mezzo così estremo. E quindi concludo appunto con queste sfumature del grigio che è la ricerca etnografica più recente, che finalmente fa parlare loro, non qualcun altro per loro, ci riporta un panorama molto più articolato. Grazie mille. Bene, allora diamo direttamente la parola alla seconda speaker, così poi immagino che ci saranno un bel po' di domande sull'intervento della professoressa Calandra, quindi ci affrettiamo. La nostra seconda speaker è la dottoressa Marta Gara, che è dottoranda in istituzioni e politica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi dal titolo Change the System from Within, Participatory Democracy e Riforme Istituzionali Negli Stati Uniti degli Anni Settanta. Ha una laurea in Storia e Società presso l'Università di Roma III, è un master di secondo livello in Public History. E l'intervento di oggi, dal titolo tra Hollywood e Capitol Hill, dell'attivismo di Jane Fonda alla fine degli anni Settanta, intende esplorare le molteplici leve di pressione per il cambiamento sociale utilizzate dall'attrice, appunto Jane Fonda, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta e il Novecento degli Stati Uniti. Utilizzando fonti inedite, la dottoressa Gara ci descriverà i confini, le intersezioni, ma anche le interdipendenze dei differenti ruoli pubblici dell'attrice, soffermandosi sulla peculare declinazione politica dell'attivismo dell'attrice. Ti do direttamente la parola, quando vuoi Marta, vai. Buonasera a tutti, grazie mille Walter, ringrazio molto gli organizzatori della conferenza SIS e sono onorata di partecipare, non solo per essere, insomma poi per collaborazioni finite in questo panel, così vivace, e ho già tantissime domande per la professoressa Calandra, e quindi ecco, a parte questo, sono onorata di partecipare per la prima volta con un intervento alla SIS, perché è una conferenza che ho sempre guardato un po' da lontano, perché di base finora mi sono sempre occupata quasi solo di maschi bianchi, e quindi oggi che invece ho questa occasione, insomma mi entusiasma, forse ho lo zello del neofita, e non lo dico anche per giustificare quelli che magari saranno i limiti della presentazione, della ricerca, ma proprio perché in qualche modo auspico anche che questo mio primo approccio ai gender studies, comunque gli women studies, possa poi suscitare nel Q&A un confronto da cui raccogliere suggestioni costruttive per vedere se continuare o meno o no questa ricerca. Vado a condividere il mio PowerPoint. Ok, perfetto. Volevo cambiare le impostazioni così io vedevo i miei colleghi, ma vabbè, fa nulla. Insomma, il mio paper appunto è intitolato Tra Hollywood e Capitol Hill, l'attivismo di Jane Fonda alla fine degli anni 70. vorrei partire proprio scomponendo un po' il titolo per addentrarci nella materia perché mi sono anche interessata a sviluppare un po' un progetto più biografico sulla celebrity activist per eccellenza che appunto Jane Fonda. Tra Hollywood e Capitol Hill, l'attivismo di Jane Fonda, metà del mio titolo funzionerebbe anche oggi. E questo non c'è bisogno insomma di alcuna ricerca, basterebbe sfogliare in maniera impressionistica i titoli dei giornali perché appunto come la foto è semplificativa che ho messo, ma ce ne sono tantissime altre, Jane Fonda è reduce di una stagione di grande rinnovata popolarità quale attivista perché dall'autunno 2019 ha lanciato proprio i Friday Fridays davanti a Capitol Hill subendo poi dei vari terresti con una campagna che tutte le settimane la portava a presidiare il Campidoglio fino ai inizi del 2020. Tuttavia io vorrei che prendeste teneste a memoria questo legame con il presente e però vi vorrei portare qua non tanto sull'account Instagram di Jane Fonda ho voluto un po' giocare così ma nel 1971. Insomma Jane Fonda che ha un account molto molto vivace e che ha di solito anche nelle sue ultime interviste un rapporto molto sereno negli ultimi anni con il suo passato e con i suoi tre mariti in particolare il 15 maggio pubblica con un post questo manifesto di un incontro del 1971 lei scrive il 1970 ma dai miei insomma dai miei studi posso dire che il 1971 è il febbraio 1971 mettendo appunto il manifesto dell'incontro della Michigan Union Bellroom a Dan Airborne all'Università di Michigan in cui ha conosciuto il suo secondo marito Tom Aiden Tom Aiden è scomparso nel 2016 e questo perché perché vi porto a questo a questo post giocando anche un po' insomma con la visibilità mediatica che ha attualmente con gli strumenti visibilità mediatica che ha la Fonda in questo momento perché è lì che inizia un po' la mia storia e perché questa ricerca di cui vi parlerò su su James Bond sul paper nasce in realtà come uno spin off dal mio progetto di ricerca di dottorato come accennava Walter io mi sono occupata negli ultimi tre anni di parte della dell'implementazione istituzionale della partecipazione di democrazia negli anni settanta negli Stati Uniti la partecipazione di democrazia è un concetto che nasce negli anni sessanta nella controcultura insomma lascio stare e uno dei casi dei casi di studio ho affrontato per osservare come la partecipazione di democrazia è stata trasferita è stata convertita da strumento di protesta a leva politica istituzionale nelle amministrazioni e c'è proprio quello di Tom Hayden sono stata per un po' di tempo insomma ho fatto una ricerca abbastanza estensiva sull'archivio personale di Tom Hayden i Tom Hayden papers che sono conservati all'Università di Michigan Library e lì ho incontrato per la prima volta più da vicino la figura di Jane Fonda perché dopo quell'incontro nel 71 Jane Fonda sposerà Tom Hayden nel 1973 avrà lui il suo secondo figlio e ci sarà prima e soprattutto una liaison non solo sentimentale ma una liaison di attivismo e appunto quello di cui vorrei parlarvi oggi è proprio come questo periodo fortemente molto intenso politicamente molto intenso della dello sposalizio politico di Jane Fonda e Tom Hayden ha poi condizionato fortemente l'approccio e le leve dell'attivismo di Jane Fonda andiamo più nel dettaglio perché parliamo degli anni settanta chiaramente il mio interesse di ricerca come proprio accennava anche Walter all'inizio della presentazione del panel si aderiscono a questa scuola storiografica che sta cercando di rivedere alcuni assunti sulla storia Sassoni Renzi negli anni settanta e per i miei studi gli anni settanta sono principalmente gli anni del progressismo dei new progressive prima del grande stop della porra gaganiana per andare insomma un po' sul ridottivo e Jane Fonda è sicuramente una protagonista di quel periodo accanto al marito e soprattutto la vita del marito in quel periodo e la sua sono caratterizzate da due grosse campagne che sono la campagna per lui Sassoni del 1975 1976 Tom Eden si candida per il posto di senatore dalla California alle primarie democratiche perde e da lì riconverte il suo percorso politico di avvicinamento alle cariche elettive la riconverte in una campagna che dura praticamente quasi dieci anni la campaign for economic democracy di base lui con la campaign for economic democracy organizza una una vera mette in piedi una vera propria organizzazione prima statale californiana poi nazionale in un certo periodo ora lo vedremo e gli servirà soprattutto per guadagnare terreno base politica per poi essere eletto nel 1982 come representative come deputato alla legislatura californiana perché questo ci interessa perché Jane Fonda che qui vi ho messo due foto l'una della campagna 75-76 è della Michigan Library Digital Collection quindi non sono foto che ho trovato online insomma e la seconda invece quella della CED è una foto dei primi anni 80 che ho trovato proprio in archivio in ito Made in Papers perché questo periodo è fondamentale per la vita di Jane Fonda perché e per il suo attivismo perché lei ha un ruolo sempre più rilevante nella nella carriera politica del marito inizia sia nell'organizzazione della campagna il 75-76 a far parte dello steering committee della campagna quindi è prima tutto manager è finanziatrice è speaker tutta la famiglia Fonda finisce poi a far parte e a supportare Tom Hayden il supporto cresce poi anche il protagonismo la visibilità di Jane Fonda cresce con la campaign for economic democracy e prima di arrivare al clou della campaign che è il 1979 che ci porta poi anche al caso di cui voglio parlare in particolare che ci dà lo spaccato anche qual è lo sviluppo politico a cui si approccia Jane Fonda vi introduco brevemente a che cos'è l'economic democracy perché magari io lo do per ovvio ma non è detto l'economic democracy è una sorta di nasce come una sorta di declinazione economica della partecipato di democracy di base qui vi ho messo un pamphlet della propaganda della campaign for economic democracy di Tom Hayden anche questo di primissimi anni 80 l'economic democracy di base è una teoria che verrà diciamo sistematizzata nel 1980 con una pubblicazione omonima che poi ha fatto scuola e che tuttavia Tom Hayden aveva approcciato fin dalla metà degli anni 60 con insomma da quando era uno dei leader della new left e appunto l'economic democracy è una completa revisione dell'economia che non rinuncia al capitalismo siamo chiari ma che porta ad una sua riconversione in tempi scarsità come dice in maniera insomma chiara il testo che vi ho portato ad esempio perché non a caso Tom Hayden inizia la sua carriera politica in un periodo di recessione magari non chiamata claramente così ma di crisi economica forte e che appunto quella del 73 74 75 di cui gli Stati Uniti sentono fortemente il colpo di localizzazione industriale e quindi c'è tutta una riconversione su cui io punta tantissimo non a caso si candida in California dove si spendeva già molto a livello politico in termini di utilizzo dell'energia solare di aziende di comunità c'è tutta la tradizione delle cooperative agricole da Cesar Chavez in avanti e quindi questi sono un po' i punti che affronta l'economic democracy quello che mi interessa scusate mi si è aperto una roba che non volevo quello che in questo contesto di questa campagna che dura molti anni mi interessa arrivare con voi al settembre 1979 e i primi mesi il 1980 perché la CED in quei mesi lì acquista una visibilità veramente nazionale e a renderlo possibile è un tour in 52 città che praticamente è condotto quasi esclusivamente da Tom Hayden e Jane Fonda ed è per questo che appunto questo momento è particolarmente importante per la carriera di attivista di Jane Fonda e qui vi ho messo la citazione per definire proprio che cos'è questo tour che cos'è questa campagna di cui anche a New York diciamo a certo punto si accorgono anche sulla New England vi ho messo una definizione di David Kallenbach che era un 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 deputato del Wisconsin eh grande supporter della coppia e che secondo me eh dà bene l'idea di che cosa stiamo parlando insomma anche del mix ideologico che c'era dietro a questo ehm a questo progetto e ehm tuttavia mh perché qui diventa anche importante ehm il ruolo di eh di Jane Fonda perché se facciamo un passo indietro da settembre a qualche mese prima al maggio giugno nella vita di Jane Fonda accadono delle mh ci sono dei nodi particolarmente eh cruciali ehm innanzitutto eh a maggio giugno 1979 eh Jane Fonda apre il suo primo studio aerobico a Beverly Hills dando il via a una a quello che poi diventerà di lì a poco in quasi quattro cinque anni un vero e proprio impero non solo ehm di là ehm del fitness ma anche ehm televisivo eh con ehm raggiungendo addirittura uno dei eh la top five dei best seller ehm internazionali di videotape per le lezioni appunto che le casalinghe potevano fare a casa seguendo le sue ehm le sue ehm le sue le sue le sue pratiche di allenamento e poi alla fine 1978 inizio 1979 eh Jane Fonda lancia la IPC Films eh con Bruce Gilbert con un eh con un regista suo amico perché eh questi due punti e soprattutto perché appagliare questi due punti a eh la alla campaign for economic democracy perché proprio nel giugno 1979 da da quanto risulta da un eh memorandum dello steering committee della campaign for economic democracy scritto dato a Maiden la eh la campagna è in un momento di stallo di crisi mancano i finanziamenti lui mh in maniera ironica dice qui non ci sono neanche più soldi per fare i buttons e le bandierine e eh eppure che cosa succedeva nel settembre la campagna è talmente tanto forte che si può permettere un tour nazionale che cosa è successo in mezzo in mezzo è intervenuta a Genfonda in maniera mh pesante perché diciamo che dai budget delle sia della campagna il settantacinque e settantasei che dai budget del eh della della campaign for economic democracy si vede un crescente intervento finanziario di Genfonda per a favore della mh della carriera politica del marito quando non c'era liquidità lei interveniva eh c'era il proprio il suo studio legale che supportava eh tutto questo poi anche eh facilitato diciamo da ehm il circolo di eh progressisti interni ad Hollywood a Los Angeles non a caso i due abitavano a Santa Monica tutto un eh pool di supporto portato da Genfonda al marito e eh infatti eh anche delle sue memorie nelle sue varie autobiografie insomma o interventi autobiografici eh Genfonda ha sempre dichiarato in maniera molto onesta che ehm avesse ehm avesse aperto lo studio aerobica proprio per eh poter supportare il marito e ehm questo mh questo lo dico appunto per dare l'idea di questa donna che ehm anche per della sua della sua visibilità eh non solo già affermata acclarata come attrice ma anche eh politicamente veniva da ehm dagli anni di Anoy Jane della Winter Soldier Investigation fino anni sessanta all'inizio anni settanta ma qui c'è uno spostamento anche rispetto al mariso e che cosa succede eh proprio durante il il National Tour del sessanta del settantanove perdon durante il National Tour ehm oltre a ad essere eh una delle due condottieri insomma di questa campagna che si occupa di tanti che è una campagna di coalizione quindi tocca tantissimi punti temati tantissime cause ehm leggendo le ehm le scalette calendari si nota che a eh Jane Fonda viene praticamente quasi solo affidato come speaker il ehm il compito di supportare le donne eh lavoratrici le organizzazioni di donne lavoratrici e ehm questo lei ehm io non ho potuto verificare dai documenti dell'organizzazione della campagna se eh se quale fosse la sua posizione in merito eh se non quella di eh insomma ehm farlo eh e portarlo avanti con successo eh non so se soffrisse o meno di questa divisione di genere eh delle cause da portare avanti eh durante la campagna e non a caso che eh insomma l'associazione è immediata quella del supporto soprattutto alle associazioni di clerical works come ehm come appunto nine to five che è il famoso movimento poi diventato local union eh per mh che appunto sindacato eh per le le donne eh degli che lavorano negli uffici quindi clerical office office worker o clerical workers solo donne e ehm quello che mh che 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 però interessante in questa fase è che appunto durante il tour nazionale l'identificazione avviene completamente l'identificazione di ehm di Genfonda supportata in alcuni momenti anche dalla amica e mh e collega Glona Steinman e ehm con il sindacalismo e il sindacalismo femminile soprattutto un sindacalismo anche qui residuale perché anche la storia di nine to five eh lo lo racconta insomma il nine to five nasce prima come movimento alla fine degli anni sessanta e diventa poi local union all'interno della SELU che era il sindacato dei servizi che è uno dei sindacati più forti ancora oggi e eh che quindi in questa fase di riconversione in realtà però pur ehm irrompendo e avendo molta visibilità anche a livello nazionale di fatto non riesce mai troppo a eh raccogliere numeri grossi e in questo su questo punto eh vi vorrei ehm Walter come sono messa con il tempo? Cinque minuti? Ok su questo punto vi vorrei semplicemente eh dire ehm una 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 quadra eh veloce ehm eh qui ehm durante il durante la il National Tour eh Jane Fonda appunto incontra ehm ai vari pranzi ai congressi delle women workers ehm e eh e poi che cosa fa? Eh incontra anche ehm stringe così tanti rapporti con Nine to Five che qui abbia diciamo la saldatura con la sua nascente authorship cinematografica che avevamo visto prima nata appunto con l'IPC Films l'IPC Films è quella che poi ehm pubblicherà altri film eh si eh produrrà perdona altri film politicamente molto impegnati e così fa con Nine to Five Nine to Five esce nel 1980 è campione di incassi ehm con altre due figure molto note oltre alla stessa attrice fonda e ehm banca al al botteghino e soprattutto mh innesca un il film che è un film mh classico neanche troppo di rottura in realtà riesce a funzionare come leva per supportare il movimento di ehm equiparazione dei diritti delle donne nell'ambiente professionale e in ufficio ha un impatto molto forte c'è proprio un cultural shift come dice come dice ehm ehm la l'autrice di eh knocking on the level door che è uno dei libri eh che ha meglio definito eh questo fenomeno eh Lane Weedman ecco se non lo ricordo e ehm e che cosa dice noi invece questo questo breve squarcio sugli anni settanta ci dice innanzitutto che ehm si aggiunge un tassello rispetto a quanto ha fatto l'eletturatura finora dell'attivismo di ehm di ehm di Genfonda che ehm dal punto di vista biografico è una saldatura forte col sindacalismo che lei porterà avanti ehm successivamente e ehm e dall'altra eh chiaramente per lo più sindacalismo bianco anche se lei mantiene in in quel in quel periodo comunque una una un approccio e questo lo si vede dai discorsi che ho potuto leggere eh un approccio mh abbastanza radicale nelle forme nelle eh negli strumenti di cui eh di cui si serve per approcciare anche ehm le le compagnie assicurative per supportare appunto eh le le donne che stavano combattendo per ottenere maggiori diritti ed equità professionale e ehm dall'altra che cosa se noi facciamo diciamo una sorta di zoom out rispetto alla alla vita eh di eh di Genfonda ci rendiamo conto che mh che questo suo eh affondo con una sorta di appunto eh femminismo professionale ehm in realtà fa parte di una rete fa parte della rete della Campinfo Economic Democracy che è una eh coalizione multi issue e eh in cui appunto le cause dei tenants degli affettuari convivono assieme a quelle alle problematiche a supporto alle problematiche specifiche delle black community a fianco a le progettazioni per ehm la salvaguardia ambientale la lotta ai rifiuti tossici la lotta al nucleare le cooperative c'è Tomayden è uno dei di quelli che meglio esprime eh dico Tomayden ma per dire appunto il suo la sua eh la sua carattura politica il suo la sua ideologia il suo pensiero politico è uno che meglio esprime la lo strumento della coalizione multi issue e della campagna che è tipico del progressismo anni settanta e praticamente chiaramente si vede che ehm ehm nelle leve che attiva già in fonda c'è una sorta di assorbimento di questa esperienza perché lei appunto nello stesso momento attiva e con una certa disinvoltura e anche spedificatezza eh un impero mediatico e del fitness che verrà anche fortemente criticato per la sua carica sessista attiva un autoship cinematografica altrettanto forte e con un impatto mediatico forte però di tutt'altra caratura o perlomeno con l'intenzione un messaggio differente e dall'altro continua la sua ehm le sue collaborazioni il suo impegno eh insomma sulla sulla sulle comunità e in questo appunto ho voluto eh tracciare semplicemente una una tesi finale che secondo me questo caso ehm ci permette di dare una nuova prospettiva su un personaggio come Jane Fonda che è appunto quello di passare dal dal non solo definirma più solo come celebrity activist ma anche intersectional activist e questo è molto importante soprattutto oggi che ehm i social media i social media sta e su perdone i social ehm mi sto incattando social movement studies si interrogano proprio ehm sulla ehm sulle contiguità sulle interconnessioni e soprattutto su quante leve eh sia possibile eh attivare da un punto di vista il movimento per essere poi effettivamente incisivi come eh in termini di pressione politica vi ringrazio molto ok ok il terzo sono io il terzo speaker sono Walter Toscano un dottorando in storia all'università di Pisa ehm con una tesi dal titolo Black Feminism by Home Borders la lotta trasnazionale intersezionale delle femministe afroamericane 1965 1985 eh i miei temi di ricerca avvertono principalmente sulla storia afroamericana e sulla storia del femminismo afroamericano lungo del novecento ehm ora la l'intervento di oggi che ho intitolato On the Job la Terru Human Alliance le lavoratrici non-white statuline tensi e la crisi degli anni settanta eh intende indagare eh dei temi che già sono stati più o meno trattati da entrambe le nostre speaker ehm però che in realtà è la diciamo nella fattispecie la relazione tra la crisi della sindacalizzazione la recezione da parte del movimento femminista eh nero nel contesto statunitense e ehm diciamo le nuove ricerche sulla crisi della sindacalizzazione della crisi del sindacato durante gli anni settanta mi eh condivido con voi lo lo schermo di powerpoint sperando si veda si veda? mh perfetto ok eh dunque il diciamo che ho fatto riferimento principalmente all'organizzazione che io studio questa è una ricerca in corso dopo in realtà per cui mi scuso se ci saranno delle parti un po' non molto approfondite il punto di partenza appunto è questa organizzazione di cui vi parlerò tra poco però il contesto qual è? è il contesto della crisi degli anni settanta della crisi della sindacalizzazione in realtà non tanto di recente circa dieci anni fa questo storico Jefferson Cowie ha scritto probabilmente uno dei suoi libri più importanti che si chiama Staying Alive the 1970s and the last days of the working class in cui fondamentalmente cerca di spiegare il motivo della crisi della sindacalizzazione cioè perché negli anni settanta durante la crisi economica durante la recessione economica statunitense si assiste a una crisi della sindacalizzazione una delle motivazioni che lui aduce insomma a questa crisi della sindacalizzazione è la disaffezione da parte della working class cioè lui dice a un certo punto c'è uno scollamento totale tra i sindacati per come diciamo i sindacati per come li conosciamo per come sono strutturati negli Stati Uniti che chiaramente sono completamente diversi da come sono concepiti qui in Europa e la working class perché per la working class probabilmente è molto più diciamo utile non essere sindacalizzati piuttosto che essere sindacalizzati e diciamo corre il rischio di perdere il lavoro in realtà i motivi della crisi sindacale sono molteplici bisogna dire che durante gli anni 70 durante appunto la crisi economica sono almeno tre i fattori che impattano sulla sindacalizzazione quindi proprio sulla gestione della sindacalizzazione il primo è sicuramente l'automazione perché l'automazione nei fatti decurta una parte considerevole del numero di posti di lavoro e i sindacati non riescono molto spesso a chiedere o comunque lottare per un recupero di quei posti di lavoro che c'erano negli anni 60 dall'altra parte le anti-union laws negli anni 70 è il contesto anche della grande competizione sul mercato del lavoro e soprattutto negli stati del sud si fa molto ricorso a queste leggi cioè sono legali che valgono a livello statale che nei fatti impediscono la sindacalizzazione autonoma da parte dei lavoratori cioè nei fatti impediscono gli strike impediscono varie forme di sciopero e nei fatti impediscono la sindacalizzazione il terzo fattore è che non c'è una pena diciamo efficiente per evitare che i padroni delle aziende gli imprenditori nei fatti violino determinate leggi sul lavoro all'interno delle aziende queste sono le motivazioni in realtà che vengono incluse appunto da cove ma non vengono molto approfondite però l'altro punto di partenza è il libro già citato tra l'altro da Marta che è il libro Knocking on the Labors Door di Elaine Wyndham che ci dice un'altra cosa in realtà la storia della sindacalizzazione della storia del sindacato degli anni 70 negli Stati Uniti è una storia che molto spesso guarda a due cose da una parte i sindacati che ce l'hanno fatta cioè la lotta sindacale che è arrivata al proprio obiettivo cioè negli anni 70 lei dice buona parte dei libri fanno riferimento a quelle lotte sindacali che hanno avuto un inizio una fine a lieto fine diciamo dall'altra parte molta parte dell'attenzione compresa l'attenzione appunto di di Cowie è relativa alla working class maschile bianca in realtà lei dice in questo suo libro Lane Wyndham con prove effettivamente alla mano bisognerebbe guardare il periodo degli anni 70 non come il periodo della disaffezione della working class perché effettivamente la disaffezione c'è ma da parte della working class bianca che evidentemente non riesce tramite i sindacati tradizionali quelli più importanti ad ottenere gli stessi vantaggi che aveva negli anni 60 ma in realtà nello stesso periodo la working class maschile femminile nera e non white americana ricorre molto di più alla sindacalizzazione perché si rende conto che tramite la sindacalizzazione la lotta anche per certi versi diciamo per l'ottenimento di maggiori benefici in campo lavorativo la lotta per la sindacalizzazione è uno degli elementi principali il punto è che gran parte di questa organizzazione gran parte di questi sindacati autonomi appunto della working class maschile nera o della working class femminile afroamericana non white nasce all'interno del contesto della disgregazione del movimento del black power che si disgrega ad un certo punto all'inizio degli anni 70 almeno tradizionalmente per la storiografia classica il movimento del black power finisce all'inizio degli anni 70 però è vero che parte di quell'attivismo sindacale nasce comunque dai movimenti del black power al che la domanda che insomma sta all'origine di questo intervento e in parte della mia ricerca cosa succede a quell'organizzazione del movimento del black power soprattutto la componente femminista e femminile del movimento del black power in relazione alla crisi della sindacalizzazione e alla crisi economica degli anni 70 per rispondere per rispondere a questa domanda io ho fatto ricorso alla storia della Fair Women Alliance che è più o meno l'organizzazione più nota diciamo femminista afroamericana del contesto statunitense degli anni 70 e che nei fatti diciamo è stata poco indagata dal punto di vista appunto delle relazioni tra il movimento in sé e la sindacalizzazione o la crisi del sindacato diciamo intanto spiego brevemente cos'è la Fair Women Alliance la Fair Women Alliance è un'organizzazione che nasce all'interno dello SNIC cioè lo Student National Coordination Committee era un'organizzazione fondamentalmente studentesca che nasce all'interno del movimento per i diritti civili negli anni 60 che nel 65 con Stokely Carmichael si radicalizza e diciamo afferisce più a quella a quella linea di pensione marxista leninista ad un certo punto terzo mondista non più legata al movimento per i diritti civili ma molto più legata al movimento del black power stile pantere nere e così via negli anni 70 questo movimento poi ad un certo punto crolla su se stesso perché non ha più uno spazio di manovra nel contesto del movimento del black power che evidentemente è più egemonizzato dalle pantere nere di cui in parte vi parlerò durante questo intervento ora la third woman alliance nasce dentro questo movimento e nei fatti si separa da questo movimento pur avendo un legame stretto con lo sneak perché si pongono due problemi da una parte il fatto che il movimento afroamericano non dà spazio alle donne dal punto di vista proprio dell'autorship non c'è un movimento che dia veramente dei ruoli di leadership alle donne afroamericane in tutti gli anni sessanta la third woman alliance nasce con l'obiettivo di dare quel ruolo alle donne afroamericane nel 1970 in realtà questo movimento cambia nome e diventa third woman alliance perché in questo movimento entrano anche le donne portoricane poi le chicane poi le nativo americane in generale tutte quelle donne non white che sono accomunate da una cosa dalla tripla oppressione come la definiscono loro cioè nei fatti tutte le donne non white al di là delle differenze chiaramente di origine soffrono di tre elementi intanto sono tutte tutte donne quindi c'è l'oppressione maschilista dall'altra sono tutte donne povere della working class o addirittura del sottoproletariato il terzo elemento è che sono donne discriminate dal punto di vista razziale sono delle donne che non riescono a comunicare direttamente col movimento bianco del femminismo nella seconda ondata ecco perché nasce un gruppo in realtà non settario devo dire di donne afroamericane chicano nativo americane che si fondamentalmente si dispiega in tre città fondamentali con delle differenze sostanziali cioè New York nel 1970 viene creata da Francisville 1971 Oakland diretta da Cheryl Johnson e nel 1972 a Seattle ora in realtà il tema del della della working class della crisi della sindacalizzazione è un tema principale per la third woman alliance ciò nonostante non è stato molto approfondito dalla storiografia recente questo per due motivi il primo è perché la third woman alliance non partecipa direttamente alla sindacalizzazione della working class cioè la relazione che questa organizzazione ha con la working class è un rapporto più educativo cioè loro si riescono a immettere in un contesto in una rete politica in cui i sindacati riescono tramite loro a comunicare con la comunità femminile non white di Oakland di New York di Seattle quindi da questo punto di vista non è stata analizzata perché viene considerata poco poco rilevante per la sindacalizzazione l'altro elemento è che in realtà nonostante la storiografia veda la third woman alliance come un'organizzazione coesa in realtà non lo è cioè in realtà le differenze intrinseche sia dal punto di vista ideologico che dal punto di vista organizzativo sono sostanziali considerate che la diciamo la sezione che dura di più è quella di Oakland arriva fino a diciamo la storia di questa organizzazione arriva fino agli anni 90 cambiando due nomi cioè cambiando il nome due volte ma l'organizzazione la sezione principale cioè quella di New York chiude nel 77 quindi già anche lì ci sono diverse periodizzazioni e poi sono molto ancorata al contesto diciamo cittadino se la sezione di New York è molto più diciamo ha una relazione molto più diretta con la working class operaia della Ford di Newark e del New Jersey la cosa è diversa invece nel contesto di Oakland dove invece la relazione è molto più diciamo molto più forte è quella con United Farm Workers di Chavez e con il movimento portoricano il movimento operaio portoricano californiano quindi già sono molto diverse da questo punto di vista e che risulta difficile fare una lettura univoca del rapporto tra questo movimento e la crisi della sindacalizzazione è un rapporto diciamo atipico ora loro nel 1971 pubblicano Triple G per lì appunto il il newspaper dell'organizzazione e si pongono fin dall'inizio l'obiettivo di dover comprendere quali sono le peculiarità della working class non white come viene definita delle donne del terzo mondo già si è detto negli interventi precedenti e quali sono le differenze con la working class per come veniva diciamo per come la conoscevano per come diciamo veniva conosciuta dai sindacati dell'epoca e anche le relazioni tra la comunità non white e la working class non white e la crisi economica degli anni 70 ora partiamo dal diciamo da faccio una diciamo una breve spiegazione di quello che succede negli anni 70 in poche parole anche se difficile diciamo che nel 1971 data la recessione economica Nixon stabilisce quello che viene definito il nuovo piano economico il NEP che nei fatti prevede due cose la prima è il congelamento dei salari il che vuol dire che fondamentalmente i sindacati non riescono più a lottare per un aumento degli stipendi dall'altra parte è un taglio netto ad alcune componenti del welfare state federale con un'ampia manovra da parte degli stati di poter tagliare a loro volta parti del welfare state destinate destinate alle famiglie più povere ora in questo contesto le critiche vengono fatte da diciamo da varie da varie da varie componenti anche i sindacati più importanti diciamo di vario tipo criticano la scelta di Nixon perché nei fatti il congelamento del diciamo degli stipendi non si accompagna ad un tetto massimo di guadagno alle imprese il che vuol dire che fondamentalmente lo sfruttamento può essere portato avanti la sindacalizzazione non riesce ad aumentare gli stipendi dei lavoratori e il diciamo gli interessi dei imprenditori aumenta questa è la crisi diciamo la critica centrale la Fair Women Alliance nel suo nel suo ehm ehm il suo Triple G o Pardì sottolinea la stessa cosa ma in più ehm inserisce fondamentalmente qual è la il discrimine cosa colpisce di questa manovra di più le donne del terzo mondo e vi cito un pezzo del del loro articolo del loro dell'articolo sulla NEP contemporaneamente alla NEP un numero crescente di stati ha annunciato piani di riforma del welfare che consistono non solo tagli previsti in tutta la spesa per il welfare ma anche misure per diminuire le assegnazioni degli assegni tra le misure che vengono considerate vi è un piano federale che costringe le famiglie a lavorare per ottenere gli assegni questo significa che le famiglie che hanno bisogno di assistenza saranno costrette ad un massiccio oppressivo programma di lavoro simile alla schiavitù specialmente per le famiglie del terzo mondo in aree metropolitane come per esempio New York ora il punto è che tramite la NEP nei fatti le vecchie diciamo le varie forme d'assistenza alle famiglie più povere vengono trasformate in obbligatorietà lavorativa cioè si dice noi ti diamo una parte degli assegni statali e degli assegni federali ma nel frattempo tu devi trovare un lavoro il che vuol dire che per la comunità nera la comunità portoricana la cosa risulta difficile se è in un contesto come quello di New York dove l'offerta del lavoro diminuisce e diciamo la crisi del sindacato non riesce a spingere diciamo la working class ad ottenere dei lavori più prestigiosi fondamentalmente si è bloccata diciamo una certa scala mobile ecco della working class nei fatti loro dicono e cito di nuovo la gente del terzo mondo soffre di queste politiche come donne del terzo mondo siamo particolarmente vulnerabili abbiamo visto i nostri salari diminuire sempre più ogni anno mentre i prezzi sono aumentati senza sosta per nutrire e vestire i nostri figli ci ritroviamo a rincorrere sempre di più al credito e a indebitarci sempre di più la guerra del sud-est asiatico deve finire gli appetiti dei monopoli devono essere controllati e i nostri quartieri sembrano dei pozzinerie ai tagli dei servizi assistenziali come l'educazione e il welfare state ci hanno davvero messo con le spalle al muro il punto è che fondamentalmente le donne della third woman alliance sottolineano due elementi che già ho detto appunto il fatto che da una parte c'è la crisi della sindacalizzazione che non riduce la possibilità per le donne non white di lavorare dall'altra c'è la questione appunto della crisi del welfare state e dall'altra c'è il fatto che le donne portoricane nativo americane afroamericane condividono la paura per la possibilità per la propria comunità di poter portare avanti la propria famiglia cioè nel senso uno dei elementi principali che si pone la third woman alliance è la maternità non come qualcosa di obbligatorio cioè non come qualcosa che fa parte della cultura o portoricana o afroamericana o nativo americana ma come piuttosto un dato loro dicono oggettivo cioè le donne bianche fondamentalmente scelgono di fare figli quando vogliono noi invece no e queste diciamo queste manovre politiche colpiscono molto più duramente noi che abbiamo abbiamo su di noi la responsabilità dei nostri figli questo è diciamo il quadro generale della critica dell'analisi che loro fanno dall'altra loro si inseriscono effettivamente nel tessuto delle relazioni sindacali da una parte a New York e dall'altra parte ad Oakland il primo diciamo il primo esempio che vi faccio è quello di Oakland della sezione di Oakland dove stante le fonti che io ho analizzato che sono diciamo sono depositate verso lo Smith College in Massachusetts è chiaro che la rete di Oakland è quella che si pone di più la questione della diciamo del inserire la questione femminile afroamericana del generale portoricano delle donne non white nella coltre della lotta di classe cioè loro danno molta più prevalenza dal punto di vista di quella tripice oppressione c'è appunto genere razza e classe alla questione della diciamo dell'identità di classe negli inizi del 1970 c'è avviene il fara strike questo diciamo sciopero che diventa importantissimo a livello diciamo statunitense perché nei fatti in questa fabbrica che sta fondamentalmente in New Mexico le donne portoricane che occupano il 95% della classe lavoratrice dell'industria scioperano perché alla richiesta di un aumento dei salari la diciamo i proprietari dell'azienda dicono di no fanno uno sciopero che dura due anni questa mobilitazione in realtà è una mobilitazione che ha vede più livelli da una parte la mobilitazione chiaramente delle operaie dall'altra la mobilitazione delle sigle sindacali più importanti tra cui appunto lo United Farm Workers che da anni si era occupato della questione fondamentalmente del lavoro migrante nel contesto diciamo del californiano del contesto del sud degli Stati Uniti ma dall'altra parte dei movimenti del del compianto Black Power e dei movimenti del diciamo della della compianta New Left del contesto californiano la Third Woman Alliance si inserisce in questo quadro loro fondamentalmente insieme ad altre organizzazioni organizzano questo San Francisco Bay Area Fire Strike Support Committee in cui fondamentalmente quale ruolo hanno? Hanno il ruolo di mobilitare le attiviste e gli attivisti californiani soprattutto nel contesto della Bay Area in supporto del del Farah Strike fondamentalmente informandole cioè loro fanno più riunioni con una finalità educativa fondamentalmente cioè il loro obiettivo è cercare di ricostruire parte della working class dal basso facendo delle riunioni con diciamo i rappresentanti del Farah Strike i rappresentanti delle United Farm Workers e nei fatti fare dei sit-in in alcune in alcune diciamo alcuni negozi che vendono i prodotti di Farah Strike facendo il boicottaggio nei fatti fanno diciamo tutte queste manifestazioni che hanno un impatto molto significativo nel contesto della Bay Area perché tramite la Fair Human Alliance molte altre organizzazioni nei fatti partecipano alla 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 manifestazione dall'altra tramite questa questo Farah Strike la Fair Human Alliance riesce a stringere i rapporti molto più con la United Farm Workers tanto che riesce addirittura a costruire insieme ai lavoratori filippini questo villaggio per pensionati cioè in realtà lavoratori migranti che non potevano più non potevano non potendo accedere al welfare state americano stabiliscono di andare in pensione perché sono troppo vecchi e fondamentalmente creano questo villaggio di riposo per i lavoratori e per le lavoratrici e vivono di di quello che riescono a raccimolare i vari movimenti californiani tra cui quei soldi che riesce a raccimolare la Fair Women Alliance dall'altra parte del diciamo del degli Stati Uniti la sezione di New York invece ha un rapporto diverso col sindacato come vi dicevo mentre la diciamo la sezione di Oakland ha un rapporto più stretto con i sindacati che fanno riferimento al settore tessile e al settore diciamo della della produzione agricola nel contesto di New York le cose sono differenti e la relazione molto più stringente è quella con uno dei sindacati di punta della diciamo della produzione automobilistica nel New Jersey in una delle aziende della Ford che è la United Black Workers cioè questa organizzazione che nasce quando già molti movimenti sindacalisti afroamericani erano scomparsi perché negli anni 70 non erano riusciti a sostenere il presso delle pressioni dell'FBI ma anche della crisi interna e delle varie fratture e nei fatti insieme alla Fair Women Alliance creano una sorta di rete di mutuo scambio cioè di mutuo sì fondamentalmente di mutuo scambio cioè da una parte la Fair Women Alliance stante diciamo le fonti che ho reperito e anche diciamo alcune cose che vengono scritte nel newspaper dell'organizzazione inspessiscono quella che è la coscienza di classe dell'organizzazione stessa cioè fino al 1973 di questione di lotta di classe se ne parla ma in maniera molto velata dal 1973 da quel rapporto di mutuo diciamo scambio dal punto di vista ideologico le donne afram le donne della Fair Women Alliance iniziano a pubblicare molti più articoli sulla come recuperare la working class non white nel contesto statunitense quindi è chiaro che ci sia un rapporto diciamo significativo per il movimento dall'altra parte basta guardare diciamo le pubblicazioni della United Black Workers per rendersi conto che dall'altra parte la United Black Workers è uno dei primi sindacati che inizia a porre la questione femminile non white all'interno delle industrie Ford nonostante in quelle industrie Ford non ci siano donne il che vuol dire che da un punto di vista diciamo di mutuo scambio ideologico c'è un tentativo da entrambe le parti di unire le tre cose cioè la questione insomma lavorativa della crisi del sindacato insieme a quella della situazione diciamo dal punto di vista della subalternità femminile ma soprattutto con un'ottica diciamo relativa alla questione di razza mi accingo a concludere perché già credo di avere quasi sforato diciamo che da questo punto di vista queste due relazioni questa storia un po' probabilmente ambigua della sindacalizzazione a partire dal movimento della Fair Women Alliance intanto ci aiuta a comprendere come diciamo la tesi della disaffezione della working class da parte di Coway è molto relativa cioè nel senso le Fair Women Alliance nonostante non partecipano alla sindacalizzazione spingono per la sindacalizzazione loro lottano affinché i sindacati diventino ancora più autonomi ma in mano ai lavoratori dall'altra parte la storia diciamo un'analisi delle relazioni tra la questione di classe e la questione di genere nel contesto della Fair Women Alliance ci aiuta in realtà a comprendere o meglio mettere in dubbio il fatto che il movimento del Black Power ad un certo punto cessi di esistere in realtà la Fair Women Alliance porta avanti moltissime posizioni del movimento del Black Power e quindi è possibile che da parte della storiografia molta attenzione non è stata posta a questa associazione e in questo modo fondamentalmente si decreta la fine del movimento del Black Power comunque sia la storia come vi dicevo è molto variegata sicuramente c'è molto lavoro da fare spero più o meno di essere riuscito a dire tutto grazie qui mi accingo a presentare perché direi do direttamente la parola alla nostra discussant che è la professoressa Vinzia Fiorino che insegna storia contemporanea per il Dipartimento di Civiltà e Forma del Sapere dell'Università di Pisa nel 2019 ha attivato l'insegnamento di studi intersezionali di genere e si è occupata a lungo di storia della cittadinanza di storia della psichiatria di studi sulla razza e di studi di genere e da recentemente pubblicato un bel libro il genere della cittadinanza diritti civili e politici delle donne in Francia 1789 1915 per la viella lei cedo la parola prego grazie Valter e basta così come presentazione allora io intanto mi scuso per due motivi prima ovviamente per il ritardo ma ero impegnata in un'altra in un altro seminario a Parigi insomma la concentrazione è stata un po' un po' complessa ma va bene e quindi mi scuso mi scuso anche in alcuni passaggi soprattutto mentre parlava Marta è andata giù la comunicazione era un problema mio perché voi andavate vi vedevo bene e quindi ho perso dei passaggi e magari poi Marta mi dirà se dico delle cose non centrate vedo che ci sono già delle domande che tra di voi volete interloquire dunque io scelgo di fare anche io delle domande secche in modo da spero di essere così più puntuale e poi sceglierete voi come organizzarvi nella risposta dunque riprendo l'ordine quindi comincio dalla relazione di Benedetta mi sembrano tutte e tre intanto delle ottime ricerche insomma delle ricerche davvero molto interessanti a Benedetta chiederei forse di però tornare a un punto allora io ho anche letto il saggio che tu hai scritto per Genesis non so se Walter l'aveva citato prima non importa è un articolo proprio su questi temi pubblicato sul secondo numero del 19 va da memoria di Genesis e lì inizi dicendo queste pratiche di eugenetica iniziano prima negli Stati Uniti rispetto al mondo dei totalitarismi tu mi correggi se sbaglio quindi a quelli diciamo che in un certo senso ci sono i più noti ecco devo dire ovviamente è un tema è un punto importante che ci dice molto diciamo della statualità novecentesca almeno e non so se avevi avuto modo di riflettere appunto su questo tema per esempio per cose che apparentemente sembrano sembrano distante nei studi sulla sulle pratiche di internamento negli ospedali psichiatri che per esempio c'è nel novecento scoppia tutto il problema della faccio una breve parentesi che ovviamente chiudo subito il problema dell'ergoterapia è proprio il modello anche durante il periodo fascista è il punto di riferimento è il modello americano che è un sistema ovviamente di controllo sul corpo perché su questo ovviamente volevo andare a parare che è molto capillare molto preciso davvero assoluto mi chiedo questa invece origine nel Porto Rico è autoctona ed è l'unica area che conosce questa esperienza oppure fa parte diciamo di un sistema più più condiviso più espanso le motivazioni le motivazioni sono perché come dire le motivazioni possono essere possono essere diverse c'è un controllo quantitativo nella seconda fase rispetto a un controllo qualitativo della prima fase e mi pare di aver capito le forze delle prime le prime fasi noi non abbiamo testimonie testimonianze di resistenza a questo a questo a queste a queste pratiche ho delle altre cose che però recupero dopo e quindi intanto passerei all'intervento di Marta ma forse mi viene una curiosità che non so quanto le fonti ti possano supportare che sintetizzerei così dai leader dai leader visto che insomma c'è questo personaggio ovviamente di 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 al movimento cioè mi sembra che lei per elementi facilmente intuibili oscuri la dimensione poi del del movimento altro punto una questione interessante generale è la questione della leadership all'interno dei movimenti che hanno dinamiche diverse rispetto alla leadership all'interno dei partiti questa è una leadership un po un po sui generis e allora insomma volevo vedere volevo capire un po un po meglio rispetto a queste dinamiche questa è questo movimento in fondo recupera come dire un po di mi avrebbe da dire economia morale alla Thompson cioè un reciproco patto morale di supporto dal punto di vista ideologico la classe è proprio fuori da questa da questa da queste politiche poi perché fitness se si ora qui è proprio saltato non ho sentito un passaggio ma tutta questa aerobica adesso a differenza di voi mi ricordo gli anni ottanta e mi ricordo appunto ossessione per per l'aerobica ma era un mezzo questo proprio non ho sentito per finanziare il movimento e perché consideri così sessista e mi sembra di aver capito in maniera così così netta Walter allora anche in questo caso come i due precedenti mi sembra che siamo dinanzi a ricerche originali e molto belle Reagan arriva quando già le cose sono fatte sono ancora più sintetica altro problema tu sai che c'è una grande questione legata alla storia del socialismo del sindacato americano che parte da un famoso interrogativo Zombart perché non esiste non è esistito il socialismo negli Stati Uniti e poi ripreso da saggi e contributi molto importanti del mio collega amico Arnaldo Testi una delle ragioni del mancato socialismo mancata praticamente del socialismo è appunto che la working class arriva per flussi migratori e che non si integra l'un con l'altro a che punto questo funziona perché dalle cose che tu ci hai detto mi sembra che invece uno degli obiettivi di questi gruppi sia soprattutto nell'alleanza sia proprio superare questo altre due brevissime questioni dalle cose che un po' black power sia proprio alle origini ma un'origine che diventa lontana che poi non mi sembra che abbia inciso cioè che poi come dire le dinamiche vanno vadano da un'altra da un'altra da un'altra parte invece una nota forse come dire una pulce nell'orecchio è quando loro scrivono noi non abbiamo la stessa possibilità che hanno le bianche che possono organizzarsi la maternità eccetera ma noi siccome siamo esercitiamo lo spirito critico lo esercitiamo per tutte e per tutti a qualsiasi latitudine e anche questa è una visione un po' semplificata perché soprattutto in Italia ma non solo in Italia e comunque mi riferisco qui all'Europa c'è l'esperienza del femminismo sindacale che dice esattamente questo per esempio rispetto qui torno all'intervento di Benedetta rispetto alla pratica dell'aborto le femministe sindacali sono molto polemiche con il femminismo quello degli anni settanta insomma che conosciamo che beh certo facile essere a favore dell'aborto quando siete signorine di buona famiglia mentre noi non possiamo decidere quindi come dire anche lì non c'è nessun giudizio di valore ovviamente però c'è forse un punto di vista che in questo caso le tredondolette tue militanti danno che è un po' così un po' generico un po' semplificatore ma io devo recuperare degli altri appunti ma intanto spero di aver avviato la discussione e poi vediamo sentiamo anche gli altri preferiamo iniziare a rispondere o diamo anche la parola al pubblico così magari le raccogliamo e rispondiamo che ne dite è meglio c'è una scritta anche già c'è una scritta però una Raffaella Sarti ci chiede la parola e poi esatto lei invece preferisce farla a voce esatto magari se se vuole fare la domanda la lei così poi insomma rispondiamo le domande prego ok bene grazie mi hanno dato il microfono perché non ce l'avevo grazie grazie mille dunque ho trovato le relazioni interessanti avevo una una domanda per per Bruno Walter Renato non so qual è il nome che preferisci dunque in realtà da quello che hai per come ci hai parlato della dell'alliance c'è una grande attenzione alla working class ma la working class mi sembra di fabbrica allora in realtà sappiamo bene che molte delle donne di cui stiamo parlando erano diciamo così facciano parte di un sottoproletariato che non lavorava in fabbrica che svalgeva tutta una serie di altre attività allora mi chiedo per quel che riguarda tutto non so le donne delle pulizie quelle che facevano altri lavori non di fabbrica spesso molto più precari e così c'è una diciamo così c'è un coinvolgimento c'è un'attenzione oppure diciamo così c'è uno schema per cui insomma di fatto si privilegia uno spazio di fabbrica che però già rappresenta insomma diciamo così un gruppo operaio che sicuramente è più strutturato ha un rapporto con il lavoro diverso rispetto a chi insomma tira a sbarcare il lunario con mille con mille attività grazie vogliamo vuoi rispondere prima tu Benedetta c'è una domanda sul Q&A così magari cerca di magari di rispondere e poi facciamo in ordine credite facciamo nell'ordine in cui sono state poste le domande grazie per la domanda prego leggo quella di Michela Capris che è stata la prima a scrivere poi rispondo a Vinzia poi vi rilascio ok prego allora mi è sembrato di capire che il corpo delle donne sia stato usato come banco di sperimentazione per una medicina di genere che mirava al controllo della vita delle donne e del controllo riproduttivo vorrei capire meglio quanto queste generazioni di donne abbiano vissuto come coercizione l'operazione e se fosse una pratica che le donne emigrate tendevano a replicare faccio riferimento ad esempio alla pratica dell'infibulazione che alcune donne migranti tendono a replicare nel paese d'arrivo vorrei inoltre sapere se c'è esiste e ha indagato un rapporto tra sterilizzazione e stupri e sterilizzazione e sex working perfetto banco di sperimentazione per una medicina di genere non so se si riferisce in particolare a quel passaggio che ho fatto in realtà rapidamente sulle sperimentazioni ormonali per le prime pillole nel senso che quelle si sono state presentate agli occhi del mondo come dire come un metodo di liberazione dei corpi femminili questa Catherine Dexter McCormick faceva riferimento alla pillola infatti esatto allora ho capito bene Catherine Dexter McCormick è questa filantropa miliardaria che finanzia con milioni di dollari questi esperimenti e è interessante vedere dal suo carteggio come da una parte lei si senta portatrice di una causa modernizzatrice e di liberazione dei corpi delle donne del mondo e quindi si sente in pieno spirito diciamo di modernizzatrice statunitense come un veicolo di liberazione dei corpi la discrepanza diciamo interessante è che poi quando concretamente alla McCormick le infermiere per esempio portoricane riportavano tutti gli effetti collaterali della pillola quindi dicendo poi concretamente quali erano anche i lati meno gradevoli diciamo di questa operazione per la liberazione dei corpi dell'umanità lei minimizzava e non si curava minimamente di questo anzi è rimasta come dire celebre questa frase che poi è stata citata in tanti saggi in cui lei si riferiva a queste donne portoricane come un recinto di donne in ovulazione cioè lei fondamentalmente aveva bisogno di questo quantitativo di corpi su cui sperimentare questa cosa ne parlava veramente come se fossero state un po' dei crescetini quindi la cosa ha scatenato nella stampa portoricana una reazione evidentemente ad altissima temperatura e quindi questa metafora proprio dei conichiglios dei indias proprio le cavie da laboratorio viene ripresa esaltata e però effettivamente rimane questa questa discrepanza cioè che McCormick come femminista statunitense dichiara di voler dare a tutte le donne del mondo un metodo accessibile economico facile da usare però poi allo stesso tempo quando tu concretamente cali la dinamica dell'esperimento nel corpo della Juanita Pancita è un aspetto di cui lei più di tanto non si cura quindi effettivamente ci sono luce e ombre su questo dopodiché per quanto riguarda invece la operazione è assolutamente evidente che si stabilisce una familiarità e è parte dei motivi per cui poi si esporta dall'isola come dire alle periferie poi del South Bronx o di Brooklyn cioè diventa proprio una parte della come dire pianificazione familiare delle donne portoricane che questa è una cosa che non avevo detto ma che va assolutamente specificata avevano un ventaglio quasi inesistente di scelta e di opzione abbiamo un ruolo della Chiesa Cattolica locale veramente molto molto importante che bandisce qualsiasi forma di contraccezione ma tollera silenziosamente la serializzazione quindi come dire di fronte a un paniere così povero di scelta l'operazione che peraltro non costringe le donne a negoziare quotidianamente con questi mariti machos molto resti diciamo alla contraccezione costituisce paradossalmente una forma di empowerment io capisco che leggerla così può sembrare anti-intuitivo eppure in molti casi ciò che succede per arrivare ai commenti di scusami invece per quanto riguarda il rapporto tra sterilizzazione e stupri no io non ho almeno io personalmente trovato un nesso delle analisi compiute su questo e tantomeno su sterilizzazione e sex working cioè quello che io ho trovato è appunto questa pratica letta come fondamentalmente operazione di controllo della popolazione quindi in termini quantitativi che occasionalmente quando vai a utilizzare un'ottica di genere vai poi nei singoli percorsi capisci che è stata anche utilizzata come strumento di controllo riproduttivo dal punto di vista individuale le osservazioni di di Vinzia sì dall'articolo di Genesi io chiaramente avevo scelto un'altra prospettiva in quel caso non è che ero andata a concentrarmi sulla figura di Anne Rodriguez o su Puerto Rico ci arrivavo dopo parlavo a monte di questa cosa e sì cioè tutta la parte parlavo della mappazza stereografica parlavo un po' del discorso anche femminismo eugenia e pratiche eugeniche è stato un tema a volte imbarazzante nel senso che effettivamente noi tendiamo istintivamente a collocare questa pratica delle serializzazioni nei contesti dei totalitarismi degli anni 30 no eppure se si va anche solo a grattare diciamo leggermente la superficie si vede che la democrazia liberale per eccellenza cioè gli Stati Uniti l'autorizza già dal 1907 cioè parliamo di più di 20 anni prima questo internamente agli Stati Uniti a Puerto Rico l'autorizza esattamente 30 anni dopo quindi nel 37 ed è il primo contesto extra statunitense con questo status ambiguo appunto di territorio come dire incorporato che però non è stato federale dove inizia a proliferare e le prime femministe Sanger incluso sposano l'eugenica e le sterilizzazioni come metodo di controllo riproduttivo cioè utilizzano questo non potendo non potendo far accettare all'interno del panorama statunitense le pratiche contraccettive Tukur utilizzano questo canale di controllo razziale come strumento di pianificazione familiare e questo è un tema quindi il legame tra eugenica e il femminismo dei primi anni 10-20 è un tema diciamo poco trattato eppure in vari contesti e non solo quello statunitense l'evidenza dei fatti ci dice e ci dice questo l'origine non è autoctona quindi per rispondere alla tua domanda diciamo Puerto Rico è come se fosse un gradino successivo a tutti gli stati federali in cui appunto dal 1907 viene autorizzata ma è il primo paese latinoamericano che le pratica su scala quindi è come se come è l'isola stessa cioè un territorio proprio di ponte tra Stati Uniti e America Latina la grande estensione di questa pratica anche in America Latina in Guatemala in Cile tantissimo avverrà quasi trent'anni dopo cioè dobbiamo aspettare gli anni sessanta quindi Puerto Rico si collola esattamente anche cronologicamente a metà tra il mondo statunitense e quello latinoamericano sul dal punto di vista della resistenza qui si apre tutto un mondo a seconda delle fonti a seconda delle fonti perché è chiaro che se si va ad analizzare non so i giornali cattolici e o nazionalisti in molti casi due posizioni che coincidevano la pratica delle sterilizzazioni e qualsiasi forma di controllo riproduttivo venivano fortemente erano fortemente invise sempre all'insegno di questa lettura diciamo anti-imperiale e nazionalista Sanger era vista come il Sanger era vista come il diavolo come dire sull'isola no? Però se noi prendiamo altre fonti anche portoricane stesse di tutto un settore di medici progressisti per esempio c'è uno studio di Laura Briggs Reproducing Empire che ripercorre perfettamente tutto questo io l'ho uscito 800.000 volte nel mio libro c'è tutto un settore di medici progressisti portoricani che volevano combattere la povertà e dare a queste donne che stavano con un promedio di 7-8 promedio di 7-8 filidi quindi vuol dire che arrivano tranquillamente anche a 10 un metodo per il contenimento della povertà e che quindi vedevano Sanger come l'acqua santa cioè dunque il discorso resistenza o accettazione evidentemente dirò una banalità ma dipende dai soggetti che noi andiamo ad analizzare e così la stessa sperimentazione sulle pillole evidentemente c'è questa retorica portoricana le nostre donne sono come i cresceti da laboratorio e ci sono altre donne che dicono datemi gli ormoni 20 kg quello che c'è io piglio tutto io non ce la faccio più di farmi 8-9 figli non riesco a tirarli quindi la pillola benissimo datemela anche lì appunto è relativo alla recezione di un soggetto piuttosto che di un altro che passerei la parola a Marta così che mancano sette minuti vai cerco di andare veloccina veloccina e allora grazie professoressa Fiorino per le sue domande e allora vado una per una veloce ha fatto bene a sottolineare che mi è scappato un veloce sessista rispetto all'erobica di Jane Fonda non tanto perché non mi sono spiegata bene e ha ragione lei insomma a difendere anche quel portato culturale in realtà mi riferivo a una parte della letteratura che ha osservato e soprattutto relativa ai leisure studies ai media studies che ha osservato in maniera sistematica quella produzione ritrovandoci diciamo le caratteristiche principe principe di una forte eteronormatività e quindi di un di un ruolo sì della definizione di un ruolo di genere molto forte e racchiuso dalle pratiche che lei proponeva sia perché da una parte partiva dal benessere personale ma dall'altra finiva anche a fornire tutta una serie di guide per la madre e la donna per alcuni anni lei ha spinto molto su questa funzione univoca della donna alternativa alla cura dell'estetica e quindi per alcuni motivi le rimando per questo a un testo che ho trovato molto interessante di Louise Mansfield del 2011 che parla proprio di dell'eternomativity all'interno della biblioteca della library della fonda per quanto riguarda la leadership allora la unisco all'altra domanda sull'assenza della classe il progressismo americano degli anni settanta nasce non ha la classe come base anche se negli output nelle lotte che sostiene è spesso assimilabile alla sociodemocrazia europea ha tuttavia la comunità alla base il New Progressive degli anni settanta nascono come revisione come revival dopo la repressione di fin gli anni sessanta inizio anni settanta di quella che era la New Left della controcultura americana e quindi in questo senso è una c'è una grossa forza si fa molta forza sull'organizzazione di base ma di comunità sul community organizing di base perché poi sono quelli gli anni di forte innervamento e di trasformazione dell'organizzazione dei movimenti negli Stati Uniti e poi per quanto riguarda invece la questione della leadership di Jane Fonda io ci ho ritrovato in realtà entrambe i modelli che l'ha citato di leadership sia la leadership di movimento che la leadership di partito perché perché ci sono due fasi o due anime di quel periodo nella nei primi anni settanta del quindi del sodalizio Aiden Fonda viene più fuori e c'è una grossa un grosso incentivo all'organizzazione di movimento però come tutta l'organizzazione di movimento di quegli anni e che si rafforza in quegli anni c'è una c'è uno strato di management che negli Stati Uniti esiste noi non siamo abituati a questo ma lì con il community organizza c'è management e lei rientrava in una di quelle figure lì poi chiaramente era una leadership mediatica perché intorno a lei girava la versibilità la notorietà pubblica e nell'altro aspetto invece quando lei conduce con Aiden nella campaign for economic democracy in quel caso io ci ho trovato una classica leadership di partito perché c'è un rispecchiamento e di fatto un rispecchiamento un'emisimazione della base nella leader nella leader donna e è lei che di base non partecipa direttamente al movimento ma lo guida è praticamente un'orchestrazione essenzialmente mediatica in questo loro e i D&E di fondo in quel caso sono dei connettori di più movimenti grazie grazie mille non avrò il tempo di rispondere a tutte le domande per cui cerco di fare molto di rispondere molto velocemente rispondo alla domanda che mi è stata fatta dal pubblico sì cioè nel senso in realtà loro non hanno in testa la classe operaia cioè quella delle fabbriche avrei dovuto specificarlo loro hanno bene in mente la working class femminile non white come quelle delle clerical workers e poi soprattutto quelle che si occupano del settore del lavoro domestico quindi in realtà non hanno in mente non fanno riferimento insomma alla classe operaia per come la immaginiamo noi anzi è molto variegata però nelle carte che ho avuto modo di leggere il tema principale è quello delle clerical workers che poi tra l'altro sono le stesse del 9 to 5 solo che anziché essere quasi tutte bianche come nel caso del 9 to 5 sono tutte non white per rispondere alle domande della professoressa Fiorino Reagan c'era già prima un sostrato culturale dal punto di vista dei tagli al welfare chiaramente c'erano il punto è che il welfare state per come funziona negli Stati Uniti in realtà è una ha delle regole di accesso cioè il welfare state nei fatti prevede che i fondi vengono destinati o federali o statali a delle famiglie che rispettano determinati canoni del periodo di Reagan la questione in parte cambia in maniera molto radicale perché il punto di partenza è che per tu avere un reddito federale statale che in questo caso erano gli aiuti per famiglie con figli a carico dovevi essere sposata per esempio il punto è che la buona parte della comunità afroamericana o soprattutto portoricana non aveva non aveva una famiglia per come intendeva si intendeva la famiglia la classica americana il che voleva dire fondamentalmente colpire le famiglie non white ovviamente sto semplificando però spero ci si spero di aver risposto loro fanno delle semplificazioni sì loro chiaramente fanno delle semplificazioni il punto è che in realtà rispetto mentre la sezione di New York porta avanti quel linguaggio politico tipico del movimento del black power ma che in realtà appartiene a tutta quella diciamo a quella generazione lì anche la la Rodriguez effettivamente imperialismo eccetera lo fa in maniera lo fa in maniera molto esplicita cioè che evidentemente ha un'ottica di riguardo più alla questione femminile afroamericana non white in generale in realtà la sezione di Oakland parte dall'assunto che le subalterne o i subalterni sono appartengono alle minoranze ma in realtà l'obiettivo che loro hanno è creare un modello politico di base fortemente con delle radici di genere fortemente con le radici di razza ma che si ponga l'obiettivo di risolvere le questioni al centro della classe operaia tutta cioè loro rispetto per esempio alla sezione di New York che non vuole avere dei contatti con il femminismo bianco e che ancora nella metà degli anni settanta condanna il femminismo bianco di non avere compreso quello nero dalle lettere che vengono mandate dalla sezione di Oakland a quella di New York viene detto sì ma Francis non siamo più negli anni sessanta cioè ormai in realtà le femministe l'hanno capito che noi facciamo parte della global sisterhood per ritornare al discorso della cioè è molto più frammentato è molto più variegato come come questione e in realtà non è neanche una questione prevalentemente di slogan come chiaramente ci si aspetta ad un'organizzazione che ha che viene dal movimentismo e che ha come riferimento la mobilitazione popolare però in realtà loro hanno bene in mente il fatto che la questione della subalternità riguarda più o meno tutta la classe diciamo della la working class in generale spero di avere risposto a tutto credo ok vi ringrazio abbiamo sforato per cui direi di concludere così 32 direi che è una cosa quasi svizzera ecco il sud ecco la voce del sud sì no volevo anch'io ringraziarvi e niente penso che sia che sia stato davvero un bel panel con molti suggerimenti insomma molte suggestioni ma e molte anche punti invece già già ben solidi diciamo e quindi anch'io li ringrazio ci salutiamo qui grazie a voi grazie grazie mille a tutti e a tutte grazie